Momento conclusivo per il sacro triduo dei morti a Gandino, alle nostre spalle la Basilica a presenziare la solenne celebrazione delle 10.30 al Vescovo di Bergamo Francesco Beschi dopo la sua presenza nelle frazioni di Barzizza e Cirano, oggi nel capoluogo. Basilica gremita in occasione del solenne pontificale presieduto dal Vescovo di Bergamo Francesco Beschi insieme ai sacerdoti nativi a quelli che hanno svolto ministero nel paese della Val Gandino. Nel corso dell'Omelia è stato rivolto l'invito a mantenere viva la nostra condizione di figli di Dio, invitando a trasmettere la bellezza di essere cristiani. L'importanza di riconoscere la paternità di chi ci ha preceduto. Io credo che oggi il valore della paternità vada in un modo particolare riaffermato. Abbiamo bisogno noi adulti di manifestare alcune certezze interiori che non passano attraverso una moltiplicazione di discorsi ma attraverso la credibilità di persone, uomini e donne che sappiano trasmettere elementi essenziali e noi crediamo che il Vangelo ci offra questi elementi essenziali perché i nostri figli, quelli generati e quelli accolti, possano trovare in noi delle guide sicure. Un pensiero rivolto ai drammi che pesantemente hanno colpito il mondo, a Iti e ultimo in ordine di tempo il Cile, condividendo l'impegno alla solidarietà già rivolto ieri da Cardinal Dionigi Tettamanzi a Treviglio in occasione dell'anniversario della Madonna delle Lacrime. Ha voluto ricordare tutti coloro che vivono momenti particolari di sofferenza e anch'io desidero ricordarli per quanto riguarda la nostra comunità. La solidarietà dei bergamaschi nei confronti di Aiti, ma mi immagino adesso anche nei confronti dei terremotati del Cile, si è manifestata in una maniera meravigliosa. La cornice suggestiva della Basilica e l'imponente raggera allestita sull'altare centrale hanno reso ancora più suggestiva la cerimonia. L'apparato è una struttura spettacolare costituita da una grande raggera a diametro 5 metri e 4 cerchi concentrici che viene fissata sopra l'altare maggiore. Devo dire che questa bellezza comunque che affascina, che stupisce, riporta anche sempre alla fede di chi ha realizzato queste opere, che non le ha realizzate semplicemente per un gusto estetico, ma le ha realizzate come espressione della fede, quindi è veramente qualche cosa che ogni volta rinnova in noi pensieri profondi e anche ci provoca in direzione della fede dei nostri padri.